Ritorna per il quarto anno la Rovigo Half Marathon. Cosa ci dobbiamo aspettare? Stiamo lavorando e l'auspicio è che ci si aspetti di nuovo un evento migliore del precedente. Siamo alla quarta edizione dove le tre edizioni precedenti ci hanno dato soddisfazione in termini di partecipazione e in termini di risposta del territorio e della città di Rovigo. Quest'anno qualche novità la introduciamo. I percorsi rimangono nel loro sviluppo uguali per cui avremo una parte competitiva internazionale di 21 chilometri, una parte invece dedicata alle strade cittadine di 10 chilometri e 5 chilometri. Tutti e tre i percorsi rispetto alle edizioni precedenti sono stati rivisti. Ricordiamo la data e l'orario e come iscriversi? La data è il 15 di aprile per cui siamo molto vicini al nostro evento e ci si può iscrivere sia sul sito www.rovigoalfmarathon.it piuttosto che nelle agenzie casa per casa. L'iscrizione alla competitiva è solo ed esclusivamente tramite il sito. Le novità che ci saranno quest'anno oltre ai nuovi percorsi? Allora partiamo dalla giornata del sabato. Abbiamo voluto cercare di dilatare un po' il momento di festa e non vederlo racchiuso solamente nella mattina della domenica 15 e pertanto nella piazza Vittoria Emanuele di Rovigo il sabato pomeriggio abbiamo pensato di organizzare un intrattenimento musicale. Avremo un percorso nuovo e area bimbi che inizierà ad essere disponibile gratuitamente per tutti i bambini che ne vogliano fare utilizzo dal sabato fino alla domenica pomeriggio. Per cui l'idea è quella di dare un evento alla città che coinvolga proprio tutti. Nelle passate tre edizioni non abbiamo dedicato particolare attenzione a specifiche associazioni di volontariato piuttosto che charity e quant'altro. Quest'anno in realtà il volontariato ci sta facendo scoprire delle iniziative interessanti e tra queste cose nella nostra realtà abbiamo individuato l'associazione sportiva uguali e diversamente. Abbiamo avuto modo di conoscere questa realtà. Siamo rimasti straordinariamente colpiti dalle persone che si sono fatte carico di questo ruolo che è un ruolo sociale. Ci è piaciuto molto. Parte di fatto questo gemellaggio con la Rovigo Half Marathon. Abbiamo pensato ad una maglietta dedicata proprio per testimoniare questa vicinanza ad un mondo che è un mondo del sociale, un mondo dei diversamente abili che ci obbliga a porre la massima attenzione. Parteciperemo all'Half Marathon anche noi, atleti di uguali e diversamente. Nello specifico tutti i nostri atleti saranno impegnati nei cinque chilometri. Intendiamo sancire un inizio di percorso tra due realtà del territorio. Uguali e diversamente che tratta comunque ragazzi con disabilità in vari progetti e varie forme e l'istituto bancario Rovigo Banca appunto che si è comunque resa disponibile e il risultato è sensibile a una tematica come quella della disabilità. Ci auguriamo che questa collaborazione possa essere da esempio per tante altre collaborazioni tra associazioni e tra istituti del territorio di Rovigo. Si intende lanciare anche un messaggio che sia quello di lo sport, sicuramente il benessere dello sport, di far capire anche ai ragazzi con disabilità e alle famiglie quanto importante è il movimento e lo sport ma soprattutto si vuole lanciare un messaggio in cui tutta la società riesca a capire quanto questi ragazzi, questi nostri ragazzi sono realmente una risorsa. Quindi questo è l'aspetto che vorremmo evidenziare partecipando comunque a questa manifestazione.